Buonasera a tutti vi presento Google Earth and the Culture da smartphone quindi andiamo nell'applicazione nel Play Store in questo caso la utilizzo da Android faccio apri poi clicco sul simbolo della macchina fotografica e sono dentro come vedete Earth Projector e quindi posso andare ed è la prima icona che incontro in basso posso posizionare un'opera d'arte posiziona opera d'arte ok scelgo una zona dove posizionare l'opera d'arte prima scelgo l'opera d'arte sceglierò questa e poi posiziono l'opera d'arte in un punto come vedete della stanza questo è il ritratto ma risulta un po' grande di Paul Wilhelm di Modigliani posso tap for photo or hold for video ecco ho quindi salvato la foto la posso condividere questa foto oppure cliccando sto creando un video con questo quadro con questa opera d'arte chiudo condividi e vado a condividere ad esempio su Facebook notizie scrivi qualcosa questa è una prova di quindi arse e patch e vado a pubblicare pubblica quindi ho fatto questa bella cosa mi sono quindi immedesimata nell'opera d'arte e ho abbellito il mio ambiente posso naturalmente scegliere anche un'altra opera d'arte ce ne sono molteplici tra cui scegliere appunto su una superficie verso il pavimento spostalo per collocare l'opera eccola sposto qui in questo caso e facciamo possiamo fare questa tocca e vedete che ho American Gothic Grandwood e anche qui posso scattare tap for your photo oppure questa foto quindi la posso condividere oppure posso tenendo premuto il pulsante sto visualizzando questo quadro che ho posizionato nella mia stanza vado a condividere condividi allo stesso modo passo ora a considerare la seconda icona ho una color palette mi dice di scattare una foto scatto una foto di questo libro scatta foto e sceglierò un un'opera che riprende i colori della mia foto questa ad esempio è un Los Angeles County Museum of Art mostra opera d'arte ecco questa l'arte da vicino sui posso zoomare oppure visualizza in realtà aumentata vediamo che prima non è venuto scatta una foto ok scegliamo questa allora The Stale of Roma indoor keeper mostra opera d'arte vediamo visualizza in street view ecco quindi me lo visualizza con street view e posso navigare come vedete vado ora in art filter quindi provo i filtri basati su artefatti dei musei vado a selezionare un filtro selezionerò questo che mi piace tanto l'Arcimboldo prova filtro ecco e vedete che ho quindi preso l'aspetto dell'Arcimboldo sono sempre io comunque e a questo punto posso sempre tap for photo per prendere una foto oppure tenendo premuto il pulsante bianco posso registrare quello che sto dicendo fatto torno indietro scelgo anche un altro filtro vediamo quale la medusa seleziono un filtro quindi selezionerò la medusa prova filtro eccomi con il filtro della medusa sono sempre io posso fare tap e prendere una foto oppure tenendo premuto posso registrare un video e poi condividere il tutto il pet il pet portrait però non ho un animale da scaricare facciamo il l'art transfert scatto una foto scatto una foto e qui seleziono uno stile da applicare esempio questo e vedete anche qui che posso poi condividere quanto ho fatto condividi quindi l'immagine statica o come GIS quindi la posso vedere l'immagine anche come GIS condividi e vado possibilmente a condividere ok dopo di questo posso l'ultima la tricona arte selfie quindi scatta un selfie mi identifica con l'intelligenza artificiale dei volti che possono essere simili ad esempio Muller per le turbante e tanti altri insomma mi compara l'immagine e mi dice che posso mi può mostrare l'opera d'arte e quindi posso andare a conoscere questa opera d'arte e la visualizza in realtà aumentata posso visualizzarlo in realtà aumentata vediamo se riusciamo a vederla ecco ecco vedete che ho posizionato il quadro di questa opera d'arte nella mia stanza quindi posso sempre fare tap per salvare la foto per condividerla posso eliminarla oppure tenendo premuto posso registrare e poi naturalmente condividere siamo all'ultima icona che è questa che mi da il pocket galleria esplora le gallerie e ad esempio esploro questa di Klimt entra e vedete che entro nella galleria posso esplorare avvicinarmi alle opere e a navigare vedete posso quindi fare questo tour per conoscere le opere di vedete mi avvicino e posso davvero averne una visione immersiva predecessors andiamo ora a vedere gli esperimenti di google scorriamo la home page fino a google arts and culture games la prima cosa che facciamo e la più difficile forse è what came first ci clicco su e dovrò qui scegliere l'avvenimento che avviene per primo nel tempo quindi cliccherò su avvia esperimento e mi chiede che cosa è avvenuto prima anche qui se the blind leading the blind oppure il learning tower of pisa insomma è piuttosto difficile scegliere perché è tutto sono cose abbastanza insolite però mette alla prova la nostra cultura andiamo avanti come potete vedere e poi si procede qui abbiamo l'architettura le arti visive qui ok continua è un bel dilemma sempre ma andiamo avanti mettiamo alla prova le nostre competenze e quindi noi ora vediamo il punteggio che abbiamo ottenuto dice bene quindi dice che 380 è il miglior punteggio che ho ottenuto e quindi vado a scoprire la cronologia della tua partita sotto e così ho un report dell'attività che ho svolto fino ad ora ritorno al esco da questa da questa esperimento da questo quindi test sulle mie conoscenze e vado in art a coloring book avvia l'esperimento questo può essere molto adatto anche agli studenti e qui vabbè l'avevo già un po' pitturato prima cambiamo lo sfondo ad esempio clicco sul colore ok lo metto giallo clicco sul vestito e lo metto rosso torno indietro perché ho sbagliato clicco sul colore ecco che mi ha fatto il vestito rosso fiori bianchi posso cambiare il colore della cintura invece di verde lo metto giallo fatto il colore della della pelle il colore quindi delle mani dell'altra mano i capelli qui mi sembrano un po' chiari li faccio neri anche questi ho dato un'interpretazione come vedete del quadro colorandolo per vedere quale effetto mi produce se clicco su queste icone ho la possibilità di dare espressività al volto e questo si trova questo dipinto al National Museum of Asian Art quindi interessante sapere dove è collocata sicuramente l'opera adesso va bene lo riso nero facciamo facciamolo blu e vado poi a condividere il mio lavoro la mia interpretazione e quello che ho pensato quindi dell'opera attraverso i colori in Facebook esempio sezione notizia posso scrivere qualcosa scriverò Art and Culture esperimento interpretazione benissimo pubblica ho pubblicato sul web ora velocemente vi faccio vedere le altre applicazioni Google Earth and Culture e come il Crosswords avvia esperimento e qui ti dice che cosa su cosa vuoi fare l'esperimento su Arts around the world Science and Technology Fashion Nature Halloween eccetera ce l'iamo Earth ecco e qui si clicca sulla Boxes per vedere le domande e dare le risposte usciamo si esce dall'esperimento e andiamo ora a vedere il puzzle party molto carino avvia l'esperimento e qui dovete scegliere il uno del quadro un quadro e poi vi sarà fornito il puzzle che dovrete ricomporre chiede se giocatore singolo o multigiocatore vedete qui vari pezzi del puzzle ricordate che una volta che avete costruito le prime tessere del puzzle le potete fissare e spostare con cliccando su questo tasto delle tessere in basso in modo da rendere e muoverle insieme insomma le parti e muoverle insieme questo è il salvataggio potete poi mettere uno sfondo che magari vi aiuta nella compilazione del del puzzle e poi potete vedere l'immagine e scoprire di più su questa opera poi si può sempre nella solita maniera condividere il risultato attraverso i social ok andiamo indietro esco dall'esperimento comunque un esperimento molto carino e poi avete il visual crosswords che vi permette di avviare l'esperimento e di scegliere anche qui un un'opera ecco ad esempio questa o un'altra back to game e potete poi se ne sono tante scegliere quella che volete e poi vi da anche la descrizione dell'opera usate chiudo esco e potete quindi fare questa composizione ma lo vedremo dopo quando vi proporrò l'applicazione attend culture dal web quindi usando l'applicazione web based abbiamo poi le esperienze interattive quindi clicco sulla macchina fotografica nella pocket gallery come abbiamo visto esplora gallery oppure posso cliccare guardate sull'immagine per adesso dovrebbe venire quindi tocca per ottenere l'immagine nella mia stanza vedere vado ritorno indietro ma vado a avviare l'app project ancora per farvi mostrarvi meglio come se avessi un quadro collocato nella stanza torno indietro torno indietro ci sono insomma tantissime esperienze da poter fare molto abbastanza interattive e poi la possibilità di esplorare i musei museum explorer ecco cosa vuoi visitare oggi la galleria nazionale di roma che vedete molto posso andare avanti comunque suoi fare tutta questa esplorazione questa struttura anche attraverso il cellulare certo che queste esperienze alcune di queste sono maggiormente inclusive se il display è ampio come può esserlo un pc o un tablet torno indietro vedete esempio facciamolo un altro esploriamo questo questo museo del brasile una bella opportunità perché ha poi ti dà anche la descrizione esempio la galleria nazionale di roma in anteprima possiamo vedere che cosa troveremo andando a visitare questa galleria percorribile quindi è un bel anche questo progetto poi abbiamo il progetto play with the music and the sound vedremo facciamo questo experiments caricamento in corso via play candisci click anywhere to start che colore vuoi utilizzare ecco click shape to discover what candisci might have head blue e così via usciamo anche da questo esperimento vediamo questo il paint with music l'ho fatto prima sul pc veniva molto bene adesso vediamo come risulta sullo smartphone prendiamo underwater ad esempio ok qui ti dice che cosa paint with music è molto carino è molto anche rilassante scegliamo gli strumenti vedete cambia il colore mettiamo e siccome era il mare mettiamo anche dei pesci non si vede molto ma insomma si vede di più mettiamo anche un un altro altro molto inclusivo sicuramente poi possiamo anche qui come cambiare oppure oppure possiamo condividere come abbiamo fatto prima con tutte le applicazioni viste sui social naturalmente esco dall'esperimento si esci abbiamo visto anche questo e poi anche il fort of azurei fireworks ecco di esperimento facciamo lo skip liberty island gotizze gotizze vedete che posso ottenere degli effetti quindi è un gioco esco esco dall'esperimento ero per farvi darvi un assaggio di questo esperimento è molto carina è la street gallery che vedremo poi anche nel web mi dice vedetevi da gli esempi qui to create a street gallery quindi con i quadri da posizionare sugli edifici della gallery avviando sempre l'esperimento che risulta forse più facile da fare nel ecco questi sono gli esempi da fare sul web perché lo spazio qui è qui ti dà da esplorare gli street galleries cioè tutti vedete gli edifici che sono stati poi arredati con le opere d'arte qui in about ti dà tutte le informazioni scusciamo anche da qui bene insomma gli esperimenti sono molteplici che si possono fare di vario genere alcuni abbiamo visti alcuni tanto per illustrare il contenuto di questa applicazione veramente notevole che è molto fruibile anche attraverso lo smartphone e a portata di mano di ognuno non c'è bisogno di nessuna registrazione per poter ritorniamo nella home per poter utilizzarla per poterne fruire in maniera apprenditiva ed emozionale a per poter ognuno l'ognuno Grazie.